Scuole chiuse, oggette di vandalismo, trasformate in discarica a cielo aperto, diritto allo studio leso, menze scolastiche sospese, posti di lavoro persi, mancanza di sicurezza e inerzia dell'amministrazione. In conferenza stampa questa mattina, l'onorevole Cateno De Luca ha scelto di parlare di scuole e relativi servizi. Lo specchio dell'involuzione di questa amministrazione e dell'intera struttura burocratica ha dichiarato la perdita di finanziamenti per la mancata partecipazione ai vari bandi. Il suo riferimento va tra gli altri allo stanziamento di 20 milioni alla provincia di Messina per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici con 27 interventi canterabili nella provincia di Messina e un solo finanziamento alla città per la scuola media di Santa Lucia Sopracontesse per il recupero delle aree vandalizzate. Sul fronte della sicurezza, prosegue De Luca, la situazione è vergognosa. Non soltanto nessun edificio è in regola con le norme antisismiche, ma anche in questo caso si è persa l'opportunità dei finanziamenti ministeriali, ottenuti e poi persi all'amministrazione comunale per non aver integrato la documentazione richiesta. Altre opportunità perse nel campo del lavoro, prosegue, sono dovute al mancato collegamento tra comune e università di Messina. L'autoreferenzialità, secondo l'onorevole, avrebbe impedito finora di creare la filiera formazione-lavoro con strategie di delocalizzazione di incubatore di impresa per creare sviluppo e posti di lavoro.